Musica Papa Francesco ai componenti della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali La cultura dello scarto non ha confini, a volte, aggiunto, i disabili sono esiliati occulti Al cuore della democrazia a partecipare tra storia e futuro è il tema della prossima settimana sociale dei cattolici L'iniziativa, che si svolgerà a Trieste, è stata presentata in Basilicata Un prete contro la mafia, a Trani, presentato il libro di Danilo Procaccianti Ispirato alla vita di Don Pino Puglisi, il primo martire della Chiesa Cattolica, ucciso dalla mafia A Bisceglie si è tenuto un incontro per parlare degli aspetti fondamentali dei consultori familiari A supporto dei cittadini In Puglia, somministrata una terapia medica contro l'asma ad un bambino palestinese di 10 mesi Le cure sembrano sortire effetti positivi e si nutre una cauta speranza Ben trovati al primo appuntamento con l'informazione di Teledeon La cultura dello scarto non ha confini, lo ha detto Papa Francesco Incontrando i componenti della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali A volte l'handicap, aggiunto, è considerato una tragedia personale e i disabili sono esiliati occulti Sentiamo In molte parti del mondo, a causa della disabilità, tante persone e famiglie sono isolate e spinte ai margini della vita sociale A volte l'handicap è considerato una tragedia personale e i disabili sono trattati come corpi estranei della società Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i componenti della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Riuniti in assemblea plenaria sul tema della disabilità La cultura dello scarto non ha confini, ha continuato il Pontefice Evidenziando che questo tipo di mentalità può portare a gravi violazioni dei diritti delle persone più deboli A forti ingiustizie e disuguaglianze Laddove ci si lascia guidare prevalentemente dalla logica del profitto, dell'efficienza o del successo La dottrina sociale della Chiesa invece è molto chiara su questo Perché sostiene che le persone con disabilità sono pienamente umani, titolari di diritti e doveri Ciascun essere umano ha il diritto a una vita dignitosa e a svilupparsi integralmente Anche se è poco efficiente, anche se è nato o cresciuto con delle limitazioni La tendenza che porta a considerare la propria esistenza un peso per sé e per i propri cari Trasforma la cultura dello scarto in cultura di morte, ha aggiunto il Papa Combattere la cultura dello scarto significa promuovere la cultura dell'inclusione Creando e rafforzando i legami di appartenenza alla società, ha concluso Bergoglio Si è discusso della prossima settimana sociale dei cattolici Che si svolgerà a Trieste dal 3 al 7 luglio In un incontro ospitato nel Materano e incentrato sulla democrazia Il tempo in cui viviamo è contrassegnato da grandi trasformazioni Sociali, politiche e culturali che richiedono capacità di confronto e di collaborazione Molte volte però siamo lontani dal condividere con la conseguente chiusura in piccole realtà Per superare questo ostacolo serve un ascolto attivo Accompagnato dalla disponibilità a vivere in prima persona una trasformazione Mettendosi in gioco anche come cittadini in grado di aiutare la rigenerazione di spazi di vita comuni Per vivere il potere come un servizio da condividere E la sfida che sarà al centro della cinquantesima settimana sociale dei cattolici Ospitata a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimi E di cui si è parlato a Garaguso Scalo in provincia di Matera Il tema scelto per la settimana sociale è Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro Proprio perché viviamo in un momento in cui la partecipazione e il senso di fiducia nell'istituzione E nella democrazia sta venendo meno Parliamo della presenza di democrazia liberale Parliamo di una democrazia recitativa C'è bisogno di riscoprire che occorre percorrere un'altra strada E' una strada che noi non ci inventiamo da nulla Essa è già presente perché abbiamo una visione di democrazia Perché abbiamo una costituzione E perché abbiamo tante buone prassi che animano la società civile Nel suo intervento Monsignor Cagliazzo, vescovo delegato per la pastorale sociale del lavoro della Basilicata Ha richiamato da una parte i dati sullo spopolamento progressivo della regione Dall'altra gli sviluppi del progetto Policoro Che offre prospettive concrete di lavoro ai più giovani Il nostro territorio è molto penalizzato Proprio in questi giorni stanno venendo fuori delle percentuali di perdita di giovani Negli ultimi dieci anni si parla di qualcosa come 20.000 persone Per cui, voglio dire, della nostra terra c'è un'emorragia veramente incredibile Però in questo contesto ti dico che il progetto Policoro Che negli ultimi anni stiamo cercando di rilanciare Ha trovato, sarà perché è nato in questa regione Ha trovato, diciamo, del terreno abbastanza fertile Per cui ne sono nate diverse E sull'intero territorio sono presenti diverse cooperative che stanno lavorando E quindi ecco, è in sintonia con quello che è il tema Che proprio si va a meditare e a pensare E a Trani si ripercorre la vita di Don Pino Puglisi Il primo martire della Chiesa Cattolica ad essere stato ucciso dalla mafia La sua storia ha ispirato il racconto dell'autore Danilo Procaccianti Che nell'ambito dell'iniziativa Semi di Legalità Ha presentato il suo libro Un prete contro la mafia Il servizio è di Antonella Filanino Non ha mai saputo cosa volesse dire restare in sacristia In preghiera e basta Don Pino Puglisi predicava il Vangelo tra la gente La sua missione è allontanare i bambini del suo quartiere Brancaccio a Palermo Dall'abbraccio mortale della mafia Ma guai a definirlo eroe antimafia Rifiutava questa etichetta Eppure Don Pino è stato ucciso proprio dalla mafia Il 15 settembre del 1993 Giorno del suo stesso compleanno Davanti al portone di casa La sua vita, le sue battaglie Hanno ispirato il racconto del giornalista d'inchiesta Danilo Procaccianti Che a Trani nell'ambito dell'iniziativa Semi di Legalità Promossa dal settore giovani dell'azione cattolica diocesana Ha presentato il suo libro Un prete contro la mafia Edito De Agostini La sua frase tipica era Dove tutti dicono no io dico sì Per cui quando gli dissero vai a Brancaccio Non sapeva neanche che a 300 metri vivessero i fratelli Graviano Quindi i principi ereditari della dinastia dei Corleonesi di Riina E lui però era così Diceva io vado se tutti dicono che facciamo Lasciamo questi cittadini senza un prete E faceva il prete Non faceva altro che questo Alla criminalità non andava giù l'impegno di quel prete di quartiere Ecco che padre Pino è il primo martire della chiesa cattolica Ad essere stato ucciso dalla mafia Siate dei meravigliosi rompiscatole Così come lo è stato lui E l'invito dell'autore Procaccianti Io nel libro dico la mafia siamo tutti noi Quando ci giriamo dall'altra parte Quando vediamo un gesto di prevaricazione Quando non denunciamo nulla di quello che ci succede Che ci sembra non giusto Ecco dobbiamo imparare a fare questo A fare quello che si fa normalmente tutti i giorni Ad essere cittadini liberi soprattutto Un evento quello di semi di legalità Giunto alla sua terza edizione Per seguire i passi di chi la mafia l'ha combattuta per davvero Senza girarsi dall'altra parte Si seminano quei piccoli semi di legalità Che un giorno ci auguriamo possano portare il loro frutto In una terra, in una diocesi In una provincia molto caratterizzata dalla criminalità organizzata E' vero che pochi giorni fa nella nostra provincia I furti d'auto sono diminuiti Ma questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia Ci sono tanti altri modi per fare antimafia E questo è uno di questi Parlare ai più piccoli di figure Come di Don Pino Pugliesi Che attraverso il suo operato nella parrocchia Riusciva a strappare quei giovani alla criminalità di Brancaccio E adesso andiamo a Bisceglie Dove si è tenuto un incontro Per parlare degli aspetti fondamentali Dei consultori familiari A supporto dei cittadini Sentiamo Marilena Farinola I consultori familiari pubblici Hanno la necessità di essere conosciuti Potenziati e rilanciati Perché risultano essere Un valido supporto per i cittadini Che ne hanno bisogno Se ne è parlato a Bisceglie In un convegno regionale Organizzato dal distretto sociosanitario di Trani Bisceglie Che ha coinvolto tutti gli operatori della regione Puglia Dal titolo consultori familiari Servizi fondamentali per la salute della famiglia Ci sono dei servizi pubblici della ASL Di libero accesso Nel senso che Forse è l'unico servizio della sanità Nella quale non si paga assolutamente ticket Ha libero accesso tutta la famiglia Dalle adolescenti Agli uomini alle donne E si occupano prevalentemente Di assistenza psicologica Di assistenza ostetica e ginecologica Consultori familiari È un presidio fondamentale Per esempio per lo screening Che sul territorio facciamo Sulle patologie dei tumori Di tumori femminili Ed è un servizio Che ha bisogno di essere rilanciato In quanto ormai la prevenzione Come sappiamo tutti Si fa a livello primario sul territorio A differenza di una cultura sanitaria Purtroppo eccessivamente ospedalocentrica La nostra attenzione L'attenzione dei tecnici Spesso è troppo rivolta agli ospedali Dimenticando molto spesso il territorio Il consultorio familiare Si colloca appunto Come uno dei servizi fondamentali Per questo tipo di prevenzione Per questo tipo di assistenza Che riguarda tutta la famiglia I consultori sono presenti In ogni distretto delle nostre ASL In tutta Italia Quindi ancor più in tutta la Puglia Abbiamo necessità di un potenziamento Di questi servizi Per quanto riguarda il personale E la legge L'ultima legge Il DM Decreto Ministeriale 22 del 77 Del 2022 Prevede addirittura La presenza di un consultorio Ogni 20.000 abitanti Noi non pretendiamo tanto Però pretendiamo sicuramente Che ci sia un rilancio E il potenziamento di questi servizi I principi basilari Dei consultori familiari pubblici Sono l'informazione E la prevenzione In diversi ambiti Della medicina E per diverse situazioni Da quelle più semplici A quelle più problematiche Che coinvolgono Gli adulti O i minori Servizi che Devono costruire reti Perché Con le loro valutazioni E ognuno nell'ambito Delle proprie competenze Delle proprie specificità E del proprio ruolo Può aiutare E deve aiutare Il tribunale A costruire Quei progetti Sartoriali A misura del bambino Per tutelare Il suo benessere E promuovere Le competenze Della propria famiglia E in Puglia È stata somministrata Una terapia medica Contro l'asma Ad un bambino Palestinese Scopriamo tutti i dettagli Nel servizio Il bambino Palestinese Di dieci mesi Accolto in Puglia Perché affetto Da sma di tipo 1 È stato sottoposto All'infusione Della terapia genica All'ospedale Giovanni XXIII Di Bari E resterà Nei prossimi 90 giorni In stretto Monitoraggio clinico A darne notizia È la regione Puglia La terapia Si legge In una nota È stata somministrata Dal neurologo Pediatrico Che ha preso in carico Il paziente Quando è arrivato Il 28 marzo A Bari Con i suoi genitori Se il piccolo Fosse rimasto a Ramalla Privato Della terapia Che stava seguendo La malattia Neurodegenerativa Non gli avrebbe lasciato Speranze di vita Invece Grazie alla collaborazione Istituzionale Tra regione Puglia E governo È stato possibile Accogliere L'appello Dell'associazione Famiglie SMA E accoglierlo In Italia Siamo felici Fanno sapere Dal polioclinico Di Bari Di aver offerto Una nuova possibilità Di vita A questo bambino A cui la guerra Ha negato Cure tempestive E adeguate Adesso cambiamo argomento Nella gravina Di Castellaneta L'intervento delicato Di Acquedotto Pugliese Riparata Una tubazione Ancorata Le pareti rocciose A 80 metri Dal ciglio Vediamo Tre uomini Sospesi Nella gravina Di Castellaneta In provincia Di Taranto Per riparare La condotta Che alimenta Di acqua potabile L'intero abitato E l'intervento E l'intervento di manutenzione Di acquedotto Pugliese Svolto Da tecnici Specializzati In lavori In sospensione Su funi La tubazione In ghisa Da 20 cm Di diametro Segue Per 250 metri La parete rocciosa A nord Della gravina A cui È ancorata I tre tecnici Hanno lavorato Sospesi A 80 metri Dal ciglio In rispondenza Alle norme Di sicurezza Sul lavoro Applicando Alla condotta Un manicotto Realizzato ad hoc A QP Fa sapere Che l'intervento Iniziato L'8 aprile È stato completato Come da programma Senza interruzioni Nell'erogazione idrica Della città L'ente Precisa Anche Che il lavoro Svolto A Castellaneta Fa parte Di un pacchetto Di interventi Di manutenzione Straordinaria Delle reti Idriche E fognarie Che a QP Sta svolgendo Nei comuni Della provincia Di Taranto Alla scoperta Della carta Presentata a Trani Nel centro Comunale Di raccolta La campagna Dedicata Alla formazione Sul riciclo Di carta E cartone Tra i protagonisti Una delegazione Di studenti Che ha approfondito Le tematiche Dell'economia Circolare La sostenibilità Ambientale Il servizio Un percorso Di educazione Ambientale Per scoprire Come riciclare Carta e cartone Riflettere Sul ruolo Che ogni giorno Affidiamo A quel foglio Che con la creatività Sa diventare Qualcos'altro Perfino Una barchetta E sono stati E sono stati proprio Alcuni studenti Dell'istituto scolastico Roccabovio Palumbo Di Trani Insieme ai più grandi Di una scuola secondaria Superiore di Bordeaux In Francia A partecipare All'evento Inserito nel cartellone Nazionale Della Paper Week 2024 Promossa da Comieco Una iniziativa Pensata dal Consorzio Nazionale Per raccontare Il mondo Della carta Con punti di vista Inediti E originali Noi siamo alla seconda edizione Con Comieco E' un'iniziativa Paper Week Che coinvolge I ragazzi Più che altro Serve a Mettere in piedi Un percorso Di scoperta Di un qualcosa Che può sembrare Quasi dato per scontato Ma in verità Sottende a tutta una serie Di processi successivi Per recuperare materia prima Ridurre l'inguinamento E comunque Agire sul concetto Di sostenibilità In maniera concreta Un confronto Sulle finalità Della raccolta Differenziata Sull'economia circolare E la sostenibilità Ambientale Un'attività Arricchita Da letture tematiche E interventi Di laboratorio teatrale Continueremo A rivolgerci Al mondo Della scuola Ha affermato L'amministratore unico Di AMIU Ingegner Ambrogio Giordano Perché sono loro I cittadini Del domani Ai ragazzi Bisogna E lo stiamo facendo Con le scuole E con una serie di programmi Che anche quest'anno Potenzieremo ulteriormente Stiamo dando Una serie di informazioni Anche per quanto riguarda Gli aspetti Legati al clima Cosa significa E qual è Il ruolo De una piccola azione Che nella moltitudine Poi diventa importante Su qualcosa A scala Totalmente diversa E nel teatro Giordano di Foggia È stato celebrato Il primo centenario Dell'acqua pubblica Nel capoluogo Dauno Scopriamo di più Nel servizio Nell'ambito di futuro E degli eventi organizzati Dalla regione Puglia Acquedotto Pugliese E il comune di Foggia Hanno celebrato Il primo centenario Dell'acqua pubblica Nel capoluogo Dauno Per l'occasione Si è tenuto un incontro Sul tema Nel teatro Giordano di Foggia Cento anni dopo L'impegno di Acquedotto Pugliese Nei confronti Dei cittadini È immutato Con la consapevolezza Però Che tutti Siamo chiamati A fare la propria patte Senza l'acqua Noi stavamo ancora In condizioni quasi preistoriche Cioè veramente In una situazione Di grande disagio Perché non potevamo Avere quello che È il bene più prezioso Per la nostra igiene Per la nostra sanità L'acqua A disposizione di tutti Quindi questa opera Fantastica Gigantesca Che si è stata fatta Cento anni fa E che ha Come emblema La fontana di Foggia È stata un'opera Veramente apprezzata Fatta con il sacrificio Di tutti gli italiani Perché lo dobbiamo ricordare Non ce la siamo fatti da sola Gli italiani hanno deciso Di fare con legge dello Stato L'acqua di Otto Pugliese E quindi Di fare Questi grandi investimenti Portando l'acqua Da Sele Dal fiume Sele E quindi da Caposele Fino a Bari Prima E a Foggia Dopo Quindi è per noi Un bene preziosissimo E ce lo vogliamo tenere Bello stretto Le storie del mare Di Alessandro Vanoli Incantano i ragazzi Delle scuole secondarie Di Molfetta Che hanno partecipato Al secondo appuntamento Della rassegna Un palco per l'ambiente Organizzata da Arpa Puglia Vediamo Una cronaca minuziosa Di fatti e di cose La geologia Gli uomini delle coste Le scoperte Le navi, le guerre I miti e i sogni Un racconto In grado di restituire Un po' di quello stupore Che gli abissi Hanno sempre donato Tutto questo È stato al centro Del monologo Di Alessandro Vanoli Storico e scrittore Che ha saputo Rapire l'attenzione Dei ragazzi Di alcune scuole Di Molfetta Presenti Al secondo appuntamento Della rassegna Organizzata da Arpa Puglia Dal titolo Un palco per l'ambiente Cultura e scienza Studenti A teatro Per erudite divagazioni Fare storia Degli esseri umani Che si sono avvicendati Sul mare E che si sono nutriti Di mare E che hanno costruito Civiltà Cultura Sul mare Vuol dire anche Fare storia Del rapporto profondo Che noi abbiamo Con l'ambiente Con gli altri Esseri viventi Di cui noi siamo Inevitabilmente parte Ce lo dimentichiamo Troppo spesso Noi siamo probabilmente La specie più invasiva Che vi sia All'interno del mare Su tutta la terra Probabilmente E questo nostro Pessimo ruolo Dovrebbe essere Il nostro problema Principale Ricordarci Cioè che noi abbiamo Una enorme responsabilità Quella responsabilità Parte dal bisogno Che abbiamo Noi Del mare Il mare Non ha bisogno Di noi Il mare ce la farà Indipendentemente Da ciò che gli faremo Siamo noi Che non è detto affatto Riusciremo a resistere Alle nostre azioni La rassegna teatrale Che ha fatto tappa A Molfetta Città di Mare Si propone Di stimolare L'interesse Dei giovani Verso le professioni Scientifiche Legate alla tutela Dell'ambiente Vogliamo lanciare Un messaggio Di grande sinergia Di grande Ovviamente Come integrazione Tra quella che è Il cultura Che secondo noi È il buon vento Che porterà Il marinaio Nel porto migliore Che il porto Della sostenibilità Ora però Non abbiamo bisogno Anche che Questa transizione Sia veloce E riteniamo Che la cultura Sia il vento migliore Per andare Il più velocemente Possibile A bersaglio Lo facciamo In un teatro Perché pensiamo Che si debba fare Su un palco L'arassina Si chiama un palco Per l'ambiente Per avvicinare Anche i giovani Al teatro E quindi poi Spesso alla lettura Mettere insieme Tante componenti E spingerli Anche a pensare Che l'ambiente Non è soltanto Convegni Seminari Ma si può fare Anche Si possono assumere Anche delle scelte Che hanno un rilevo Professionale Cioè si può scegliere Di occuparsi Di ambienti In tanti modi E quindi anche Con un protagonismo diretto E anche con un protagonismo Professionale Cioè scegliere professioni Legate alla tutela Dell'ambiente I cosiddetti green job Di cui ci sarà Tantissimo bisogno Nel futuro Ed era questo Il nostro ultimo servizio La prima edizione Del telegiornale Di Teledeon Termina qui Grazie per averci seguito Vi auguriamo Un sereno pomeriggio In compagnia Dei nostri programmi Televisivi Grazie a tutti